In tanti hanno partecipato a Francavilla al Mare alla prima riunione di Guardiamo Avanti, movimento civico, sintesi di tante esperienze civiche, che accoglie anche l'interesse di cittadini alla prima esperienza ed estranei alle dinamiche di partito. Un baluardo civico guardato con grande attenzione dalla sindaco Luisa Russo. Il movimento civico di Francavilla, nato recentemente, costituito da tanti cittadini di tutte le età, di tutte le professioni, di tutte le fasce, che vogliono contribuire, dare un proprio contributo alla crescita di Francavilla. Anche guardando oltre, guardando alle future elezioni, guardando a questo periodo che ci accompagna da adesso, sono tre anni dalla mia elezione fino alla fine del mandato e poi proseguirà in seguito. Ho dato la mia disponibilità alla candidatura, ovviamente la conferma dovrà nascere proprio dal gruppo, dal movimento civico che mi sostiene e che mi è vicino e che lavora per Francavilla. Ancora presto, forse, ma la Russo è anche consapevole che il suo progetto politico-amministrativo non si esaurisce in questi cinque anni ed anzi, un secondo mandato troverà compimento se ci sono ovviamente le condizioni. Le condizioni sono quelle di persone che abbiano tutte la voglia di lavorare per il bene della città. Io appartengo al civismo, al mondo civico e proprio per questo sto ricominciando, come comunque ho già fatto nel passato, a incontrare i vari cittadini che vogliono andare verso questa direzione.